Ma tu lo sai che il Carrefour in Francia fa la carbonara in busta? Se pensavi che oggi ti lasciavo là a riposare, ti sbagliavi. Carbonara in busta, Carrefour. E dentro c'è di tutto, eh? Olio di palma, curcuma. Vuoi prezzemolo? No. C'è il prezzemolo! Vediamo che c'è dentro. E che c'è dentro? Fusilli. Fusilli. Pare una di quelle bestie che studia Luca a bella gamba. Mi serve una pentola, dai, e poi la buttiamo. Versiamo il peccato dentro la pentola. Mescoliamo tipo pentolone della strega. Che so' pronte. Guarda che bella crema. Guarda pure la pancetta, che spettacolo. Senza esagerare, mezzo grammo forse, eh? Voto aspetto, non magica. Eccolo qua. Tutto il prezzemolo bello in vista. Guarda la crema com'è bella, com'è. Assaggiamo. È la pastina col formaggio che ti faccio la tua madre quando stavi male. È uguale. Non è carbonara, non è manco pasta. È una bella zuppetta al formaggio. È stata una sorpresa, non l'avrei mai detto. Naturalmente con la carbonara c'entra quanto i broccoli con la Nutella, però... E la pancetta non la riesci a trovare manco se ti metti a cercarla. Quindi nessun complimento da parte mia al Carrefour francese, però buona pastina a tutti.